All'Aquila nasce la prima linea cosmetica biotecnologica di alta gamma caratterizzata da ingredienti naturali e biologicamente certificati che nascono e crescono sul territorio come lo zafferano di Navelli, insegnito della denominazione di origine protetta DOP per la sua biodiversità. Una linea innovativa con prodotti in grado di contrastare il processo di invecchiamento cutaneo, eliminando le principali cause dovute a fattori esterni o legati allo stile di vita. Si tratta di un'iniziativa imprenditoriale privata di Fiorella Bafile, nota imprenditrice aquilana, e di suo figlio Matteo Iannucci, che il 6 giugno del 2017 hanno costituito l'azienda Tindora Cosmetics SRL. Ma l'iniziativa è stata benedetta anche dal comune, in conferenza c'era il vice sindaco Guido Liris e anche da Massimiliano D'Innocenzo, presidente del consorzio tutela zafferano DOP dell'Aquila. A fare gli onori di casa il sindaco di Navelli Paolo Federico, presenti anche Matteo Iannucci, la signora Fiorella Bafile appunto, e Vito Schiattino, che è il direttore commerciale di Tindora. Il nostro piccolo prodotto potrebbe essere quello che mette ancora più in risalto i valori di questa città, perché lo zafferano voi sapete già dai tempi antichi che cosa ha fatto all'Aquila. Venivano da tutto il mondo a comprare lo zafferano all'Aquila. Noi li aiuteremo a portarlo nel loro mondo, nei loro luoghi, nei loro posti, però vogliamo dare questo impatto. Cioè l'Aquila è una città forte, è una città che sta rinascendo imprenditori come noi, che stanno investendo con le proprie risorse, senza l'aiuto di nessuno, per questa città, per dar da lavoro, come ha detto lei, per portare nel mondo questo bellissimo prodotto, per noi è una cosa importante, è un progetto che mi dà una grandissima forza. L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di portare la collezione zafferano di Tindora Cosmetics in tutto il mondo, valorizzando l'Abruzzo e questa preziosissima spezia. La sede è in via Saragat, per ora non si produce all'Aquila, ma si punterà a far questo, oltre ad aprire un punto vendita in futuro. Ci sono state già due assunzioni, perché l'obiettivo è anche creare nuova occupazione. L'iniziativa è valevole, perché parte del ricavato di ciascuna confezione venduta andrà a finanziare l'acquisto di bulbi di zafferano, che la cooperativa Altopiano di Navelli fornirà a titolo di prestito d'onore a giovani produttori, che vorranno avviare nuove coltivazioni di zafferano nell'area DOP dell'Aquila, in modo da incentivare e sostenere la produzione su tutto il territorio. Nella realizzazione di questo progetto, l'azienda ha quindi tenuto conto del momento di particolare crisi, che sta vivendo l'imprenditoria abruzzese, cercando di creare uno stimolo in più a restare ed investire sul territorio. La nuova linea zafferano verrà presentata in un contesto appena restituito alla città, l'emiciclo, domani sera un evento speciale. La produzione che negli ultimi anni ha subito dei cali vertiginosi e che stiamo provando a sostenere in tutti i modi, soprattutto cercando di attirare nuovi giovani alla produzione per un ricambio generazionale che naturalmente non riesce ad avvenire. Quindi voglio sottolineare il fatto che sia un'azienda privata a volere questo, quindi non solo nuovi posti di lavoro, un nuovo prodotto che porterà in alto il nome dell'Aquila in tutto il mondo, ma anche sostegno al territorio, territorio che ha delle difficoltà e quindi ha bisogno di molte più iniziative del genere. Ce le auguriamo. Grazie. 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 Grazie.